Del Padova che vent'anni fa vinse lo spareggio con il Cesena conquistando la Serie A, ieri allo Stadio Piani per la partita a Macord non mancava praticamente nessuno. Da una parte del campo loro, i protagonisti di Cremona, con il tecnico dei biancoscudati Carmine Parlato e i giovani dell'attuale società Marco Bergamin e Edoardo Bonetto. Dall'altra una formazione di tifosi della tribuna Fattori. Non è vero che quando si invecchia si migliora, qua c'è gente che ha gli stessi difetti. Rosa che non stoppa mai la palla, Gabriele che va al cross e non becca mai uno di noi, i soliti difetti. Devo dire la verità, è bellissimo rivedere Padova, gli amici, l'ambiente, tutti, un po' di tristezza per come siamo conciati. Quando ci siamo ritrovati nello spogliatoio, chi è un po' più vecchio, chi è un po' più concio, però sembrava di esserci visti il giorno prima. È proprio bello perché abbiamo passato dei momenti, non è solo il giorno della vittoria della Serie A, è proprio un percorso che abbiamo fatto tutti insieme. E in un clima di festa, dove al di là del risultato, quello che conta è il divertimento, si è giocata la partita. Tra gli applausi di oltre 700 appassionati, che della tribuna hanno rispolverato i cori di allora. E lo sguardo attento dell'ex presidente Sergio Giordani. Devo dire che non li vedevo tutti insieme, ogni tanto li vedo in maniera sporadica qualcuno, in particolar modo. Quelli che abitano a Padova ovviamente, però mi ha fatto veramente piacere vedere Marco Franceschetti e tanti altri che non vedevo da tempo. Tutti belli, pimpanti, addirittura qui chi è più magro adesso di quando giocava, è incredibile. Ma tenere banco, oltre a aneddoti e ricordi di un tempo, l'ha fatta da padrone l'augurio di tutti affinché il Padova possa presto tornare nel calcio che conta. Dopo quello che abbiamo fatto noi, dopo tutti questi anni di Serie A, Serie B, ma non solo, parlo anche di molti anni fa, vedere una città, una società così gloriosa, andare in interregionale, insomma, fa dispiacere. Io spero che al più presto riesca a giocare in quelle categorie che, insomma, il pubblico e la città si meritano. Peccato per il Padova che è in Serie D, speriamo che risalga il più presto possibile. L'augurio è che qualcuno che adesso ricomincia da capo, faccia le cose fatte bene come le fecero Pugina, Giordani e noi, e presto si ritorni a vedere il Padova a massima serie.